amici di youtube ben trovati da marco liguori in un video che onestamente non avrei mai voluto realizzare un notizia dell'ultimore arrivata in redazione fa riferimento alla scomparsa di gianni minà se ne va un grandissimo del giornalismo italiano gianni minà ha fatto la storia del giornalismo nostrano si arrende ad una breve malattia e gianni minà era ricoverato in una clinica di roma la notizia è un'ultimora gianni minà ci lascia il 27 marzo 2023 il secondo marco liguori con grande dispiacere ricorda una leggenda del giornalismo italiano ricorda il sole unico gianni minà scomparso il 27 marzo 2023